Io ho illustrato un insieme di rapporti, di legami fra avvocati politici e ahimè anche pubblici ministeri di amicizie a vario titolo che secondo me non hanno lasciato l'opportunità a questi pubblici ministeri di trattare alcuni fascicoli con serenità. Chiesto l'intervento del CSM, ha scritto anche per trasferimenti? Sì, io ho fatto un esposto corposo che contiene le prove di quello che dico al Consiglio Superiore della Magistratura. Ho chiesto che questi PM vengano allontanati per incompatibilità ambientale, territoriale, perché secondo me i rapporti ormai tessuti con alcuni soggetti appartenenti alla politica siracusana e ad alcuni avvocati siracusani sono tali da non permettergli più di lavorare serenamente. Io non mi sono lasciata andare a opinioni o a illazioni e dunque non ho fatto accuse, io mi sono limitata a raccontare dei fatti che sono supportati da documentazioni giudiziarie che io ho fornito al Consiglio Superiore della Magistratura. Le sentenze, i fascicoli, le assegnazioni e i rapporti di amicizia sono tutti documentati. Grazie.